Ciao e bentornato. In questo tutorial introduciamo il concetto di funzione e focalizziamo la nostra attenzione sulle funzioni reali di variabile reale. Dopo aver dato la definizione di funzione, analizziamo alcuni grafici sul piano cartesiano ed individuiamo, in base alle loro caratteristiche, quelli relativi alle funzioni. Per concludere, nella parte finale del video facciamo un breve ripasso sulle funzioni elementari, cioè le funzioni che si studiano abitualmente nei primi anni della scuola superiore. Iniziamo! Consideriamo due insiemi A e B, ognuno dei quali contenente qualche elemento, ed una relazione F che associa fra loro alcuni elementi dell'insieme A ad alcuni elementi dell'insieme B. La relazione F viene detta funzione da A a B se associa ad ogni elemento dell'insieme A, detto dominio, uno e un solo elemento dell'insieme B. Ogni elemento dell'insieme B associato tramite F a uno o a qualche elemento dell'insieme A viene detto immagine dell'elemento o degli elementi di A. Ad esempio, questo elemento è l'immagine di quest'altro elemento, questo elemento è l'immagine di quest'altro elemento, e quest'altro elemento è immagine di ben due elementi appartenenti ad A. Il sottoinsieme di B, costituito da tutte le immagini degli elementi di A tramite la funzione F, che io ho rappresentato in verde, è detto codominio, e viene indicato con F di A. Ovviamente, F di A può essere tutto B, oppure può essere, come nel nostro esempio, un sottoinsieme di B. Infatti vale la relazione F di A contenuto in B, e nella relazione può valere l'uguaglianza. Prima di passare ad un esempio numerico, vediamo di chiarire meglio la definizione. La prima osservazione che possiamo fare è che la funzione associa ad ogni elemento di A uno e un solo elemento appartenente all'insieme B, e cioè, nell'insieme A, non ci possono essere punti da cui non parte alcuna freccia, cioè punti non associati tramite F a punti dell'insieme B, e dunque, quella rappresentata in questo diagramma, non è una funzione che va dall'insieme A all'insieme B, bensì una funzione definita in un sottoinsieme di A. Come seconda osservazione, possiamo dire che ad ogni elemento di A viene associato uno e un solo elemento appartenente all'insieme B. Questo significa che da ogni punto dell'insieme A deve partire una sola freccia, e non due o più frecce come in questo esempio, mentre ti faccio notare che in un punto dell'insieme B possono confluire anche due o più frecce. Passiamo ora ad un esempio numerico. Consideriamo la funzione F che associa ad un numero intero, sia positivo che negativo, il suo quadrato. Ad esempio, A0 viene associato 0 al quadrato, che è ancora 0. A meno 1 e A più 1 viene associato 1, poiché sia meno 1 che più 1 elevati al quadrato danno come risultato più 1. Nel nostro esempio, l'insieme A è costituito dall'insieme Z dai numeri interi, mentre l'insieme di arrivo B è costituito dai numeri naturali, cioè gli interi, dallo 0 in su. La funzione F associa ad ogni elemento X dell'insieme Z l'elemento Y uguale a X quadrato appartenente all'insieme N. Ovviamente, il codominio F di A è un insieme strettamente contenuto nell'insieme B, cioè nel nostro caso nell'insieme N dei numeri naturali, poiché non tutti i numeri naturali, ad esempio il 2, il 3, il 5, sono quadrati di numeri interi. Infatti, il codominio F di A è costituito dai soli quadrati dei numeri interi, e cioè 0, 1, 4, 9, 16, 25, e così via. Quando operiamo sul piano cartesiano, invece, l'insieme A è dato da tutta la retta reale, e cioè dall'asse X, mentre l'insieme B è ancora tutto l'asse reale, e in questo caso è l'asse Y. La stessa funzione di prima, Y uguale a X quadrato, come ben sappiamo, è una parabola con il vertice nell'origine, e come si può notare, ad ogni X corrisponde una e una sola Y, che si può ottenere scegliendo una X ad arbitrio mediante questa costruzione grafica. Dalla X scelta ad arbitrio, si sale in verticale fino ad incontrare la funzione, e, una volta incontrata la funzione, si procede verso sinistra oppure verso destra fino ad incontrare l'asse Y nel punto Y corrispondente. La stessa cosa è stata fatta qui, partendo da un'altra X, salendo in verticale, incontrando la funzione, e procedendo poi verso sinistra. Come si può notare, ad ogni X scelta ad arbitrio corrisponde una e una sola Y, esattamente come dice la definizione di funzione. Vediamo ora come si può capire se un grafico sul piano cartesiano è il grafico rappresentativo di una funzione oppure no. Possiamo affermare, in base alla definizione di funzione, che il grafico di una funzione procede sempre da sinistra verso destra e non torna mai indietro, ovvero, come vedremo nei prossimi esempi, non forma mai delle S o dei riccioli. Preso ad arbitrio un punto X sull'asse delle ascisse, la Y corrispondente è sempre una e una sola, come si può notare in queste costruzioni grafiche. Ad esempio, scelta la X in arancio, mediante la costruzione descritta in precedenza, si ottiene un unico valore corrispondente Y. E questo succede anche quando il grafico della funzione è spezzato in più rami, come avviene qui nell'esempio a destra. Scelta una X ad arbitrio, la Y corrispondente è sempre e soltanto una sola. Osservando invece i seguenti grafici, possiamo invece notare che quando si presentano delle S oppure dei riccioli, scelto un valore della X ad arbitrio, le Y corrispondenti sono più di una e possono anche essere infinite. E dunque, i grafici in cui sono presenti delle S oppure dei riccioli non sono grafici rappresentativi di funzioni. Analizziamo ora i grafici di alcune curve che si studiano nei primi anni della scuola superiore e vediamo quali di essi sono rappresentativi di funzioni e quali no. In base alla definizione data, sono funzioni la funzione costante, il cui grafico è una retta orizzontale, la funzione lineare, cioè la retta, purché la retta non sia verticale, la funzione quadratica, cioè la parabola ad asse di simmetria verticale, la funzione di proporzionalità inversa, cioè l'iperbole equilatera riferite ai propri asintoti, che ha equazione Y uguale a K fratto X e per K maggiore di zero si trova nel primo e nel terzo quadrante, mentre per K minore di zero si trova nel secondo e nel quarto. La funzione omografica, che non è altro che un'iperbole equilatera traslata, la funzione esponenziale di equazione Y uguale a A elevato alla X che per A maggiore di 1 presenta un grafico crescente, mentre per A compreso tra 0 e 1 un grafico decrescente, ed infine la funzione logaritmica di equazione Y uguale a logaritmo in base A di X che per A maggiore di 1 presenta un grafico crescente e per A compreso tra 0 e 1 un grafico decrescente. Per quanto detto, tutti questi grafici sono rappresentativi di funzioni, poiché procedono sempre da sinistra verso destra senza mai tornare su se stessi, cioè senza formare delle S o dei riccioli, e in ciascuno di essi ad ogni valore della X corrisponde uno e un solo valore della Y. Vi avviso già da ora che in un prossimo tutorial analizzeremo in modo più approfondito il grafico di ciascuna di queste funzioni. Vediamo ora alcuni grafici non rappresentativi di funzioni, grafici che abbiamo già visto negli anni precedenti della scuola superiore. Ovviamente non sono funzioni la retta verticale, poiché ad un valore della X corrispondono infiniti valori della Y, la circonferenza, poiché ad un valore della X possono corrispondere anche due valori della Y e per dimostrarlo basta tracciare una retta verticale e notare che quest'ultima interseca la circonferenza in due punti distinti sovrapposti verticalmente, l'ellisse e l'iperbole generica riferita ai propri assi. Praticamente tutte le coniche ad eccezione della parabola ad assi di simmetria verticale, poiché la parabola ad asse di simmetria orizzontale non è una funzione poiché presenta punti sovrapposti verticalmente. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial vedremo cos'è il dominio di una funzione reale di variabile reale ed impareremo a classificare una funzione in base alle operazioni che compaiono nella sua espressione analitica. Vi aspetto. Ciao! Ciao!